Ben ritrovati allo spazio riservato agli appuntamenti. Sabato 26 gennaio alle 21 al Teatro Kreberg di Bergamo andrà in scena lo spettacolo degli Oblivion, diretto da Joel Edix. Cinque attori, comici e cabarettisti proporranno una serata davvero originale. Si consiglia la prenotazione. Domenica 27 alle 21.45 in Mora Nera si esibiranno al Druso Circus di Bergamo. Tanti strumenti musicali diversi, ritmi mediterranei e africani in un concerto di suoni e storie del mondo. L'ingresso avviene con tessera a 5 euro. Lunedì 28 gennaio al Teatro Sociale di Bergamo in scena guerra. Lo spettacolo di Lars Noren che racconta la storia di una famiglia sopravvissuta a una guerra civile che cerca di capire da dove e come ricominciare. L'appuntamento alle 21 e la prenotazione consigliata. Martedì 29 gennaio alle 21.00 presso il Caffè Letterario di Bergamo ci sarà la presentazione gratuita del nuovo corso di Tango Argentino. L'ingresso è libero. Ed infine mercoledì 30 gennaio al Bopo di Ponteranica serata jazz e pop di improvvisazione. Con la voce di Claudia Buzzetti, Beppe Davino al piano, Alessandro Vaccaro al basso e Matteo Milesi alla batteria. L'inizio è fissato alle 21.30, l'ingresso è libero.